La regina del mercato continua ad essere il Bari, indifferentemente in entrata e in uscita. Conte il suo benestare, infatti, per concludere con la Ternana l'affare Monachello. L'arrivo del nazionale Under 21 dal Bari via Atalanta, infatti, sembra complicato. Per il centrocampo, dunque, si punta ad altri due calciatori, in particolare Francesco Lodi dell'Udinese e Ronaldo Pompeo De Silva della Salernitana. Anche se è sempre in piedi la pista che porta Marco Romizzi del Bari. De Achite è un giocatore della Ternana. Il difensore ex Lazio, classe 87, ha firmato fino al 30 giugno 2017, come comunica il club Umbro, sul proprio sito, postando la notizia anche sull'account Twitter ufficiale della società. Il calciatore francese, che dopo l'esperienza laziale aveva cambiato diverse squadre, tra cui Sunderland, Fiorentina, Deportivo e Cagliari, era svincolato dopo essersi diviso nella scorsa stagione tra Frosinone e Sampdoria. Nenè dello Spezia pare il candidato più credibile per vestire la maglia del Bari. Una chiusura netta, invece, pare arrivata per Ante Budimir. Il croato della Sampdoria, se fosse possibile regalarlo a Colantono, sarebbe infatti l'obiettivo numero uno del Bari. Ma i blu cerchiati non sembrano convinti a cederlo. Più defilato Antonio Floro Flores, l'attaccante del Chievo, è un'idea che magari sarebbe anche concreta. Ma non pare intenzionato a scendere di categoria. Discorso analogo per Filippo Rajcevic, il 93 del Vicenza, è tra i preferiti della dirigenza pugliese, ma vorrebbe tentare il salto verso l'alto. Struggente, intanto, la lettera d'addio di Robert Gucer ai tifosi del Frosinone, che cita in un passaggio anche il contatto poi mancato con l'Avellino. Dato che fino ad ora non ho mai parlato, scrive, comincio con una raccomandazione. Non vi fidate mai delle notizie lette sui giornali. Per esempio, continua, il caso Avellino, storica ed importante piazza, purtroppo tramite diversi articoli, Sono passato in cattiva luce io, dispiace per i loro tifosi che meritano di sapere bene qual è la situazione, facendo intendere tra le righe che era stato messo di fronte ad una scelta obbligata, senza possibilità di commento. Soluzione ovviamente non gradita ed allora, dopo le parole d'amore, via subito a Vicenza. Grazie a tutti.